in un ristorante il cameriere va a prendere l'ordinazione guardi mi porti un pollo bulgaro bulgaro si si un pollo bulgaro va bene allora prende l'ordinazione va in cucina dal cuoco dice senti a me un cliente mi ha chiesto un pollo bulgaro il cuoco si mette a rire ma come è bulgaro un pollo che dà in pollo normale l'allevamento che è che è bulgaro ma come fa a sapere quello se è bulgaro portagli un pollo qualunque allora gli serve il pollo questo qua prende il pollo gli alza il sottocoda infila un dito poi annusa questo non è un pollo bulgaro questo è un pollo delle parti nostre io ho chiesto un pollo bulgaro il cameriere rimane a bocca aperta ritorna in cucina ma questo ha fatto così e così dice che questo ha riconosciuto che non è bulgaro che assolutamente è un pollo delle nostre parti al cuoco rimane un po ma senti un po io ho dei polli che arrivano dalla ex iugosilavia tu adesso non so che paese ma tu portali quello tanto iugosilavia bulgaria più o meno vedrai che passa portagli sto pollo vedete al pollo arriva al tavolo stessa scena alza il sottocoda mette un dito annusa ma questo è un pollo di allevamenti croati questa è l'ex iugosilavia io ti ho chiesto un pollo bulgaro allora il cameriere va a bocca aperta si abbassa i pantaloni si abbassa le mutande si gira senti io sono un trovatello non ti dico che voglio sapere i nomi dei miei genitori però almeno dimmi del do cazzo sono